Mi dica quello che pensa. Aspettiamo i risultati delle analisi. Tu quale strumento suoni? Secondo violino. Non ti viene voglia di fare la parte del solista qualche volta? Sì, certo. Ho parlato con la dottoressa Nadir per dei disturbi che ho avuto ultimamente. È Parkinson, ha detto. Parkinson? Vorrei dare il mio addio alle scene durante il primo concerto della stagione. La cosa migliore per il quartetto è pensare al futuro. Io non voglio più fare esclusivamente il secondo violino. Ma non si sta parlando di te o di me. No, si sta parlando del quartetto. Perché non mi vuoi appoggiare in questa storia? Lo faccio. Si fermi, per favore. Ma ti prego, non farlo. Cominciamo dall'opera 131 di Beethoven. Beethoven contiene sette movimenti e sono tutti collegati. Per noi suonare per tanto tempo, senza pause. Io amo suonare con te, ma tu non puoi guidare un quartetto, Robert. Non sei abbastanza disciplinato. Tu credi di essere migliore di me? Non sei motivato. Lo sapevo. Niente intervalli, né accordature. Credi sia stato facile avere due genitori che erano sempre in giro a suonare? Voi due non c'eravate per sette mesi all'anno. Ho fatto del mio meglio. Ho cercato di essere una buona madre per te. I nostri strumenti possono perdere l'accordatura ognuno in un modo diverso dall'altro. Ti amo più di ogni altra cosa al mondo. Ho fatto uno stupido sbaglio. Forse Beethoven cercava di sottolineare il senso di coesione e il senso di unità tra fatti casuali della vita. Tu mi ami veramente o ti faccio solo comodo? Che cos'è che vuoi? Che cosa vuoi sentirti dire? Di che cosa hai paura? Libera la tua passione! Che cosa dovremmo fare? Fermarci o lottare in un incessante rincorrerci per arrivare alla fine, anche se siamo tutti fuori tonalità? Non lo so. Non lo so.